E da questa mattina commissioni al lavoro nelle scuole per la maturità. Grazie a commissari e presidenti, scrive la ministra Azzolina, giusto mantenere gli esami, farli in presenza e sicurezza. Elisabetta Novell. Consegneranno il modulo di autocertificazione e procederanno alla sanificazione delle mani. Entreranno e come vedete praticamente avranno subito il gazebo dove sono le commissioni dove si svolgeranno gli esami che sono all'aperto per garantire comunque ricircolo di aria e spazi comunque per libertà di movimento per tutti quanti i commissari. Distanziamento, percorsi obbligati, autocertificazioni. Entra nel vivo la maturità 2020 con l'insediamento delle 13.000 commissioni in presenza. Professori con la mascherina fra scartoffi e valutazioni che questa mattina hanno estratto la lettera con l'iniziale del cognome dei primi maturandi sul patibolo. Questa è la nostra palestra, qui ci sarà una commissione composta da una nostra classe e da una classe esterna. Come vedete tendenzialmente questi sono gli spazi che abbiamo assicurato per i commissari, che vedete in queste due file, in fondo c'è il banchetto dell'alunno del candidato. Palestre, aule magne e spazi all'aperto saranno gli inediti scenari di un esame di Stato che non ha precedenti nella storia. Per evitare gli assembramenti i candidati dovranno presentarsi a scuola solo un quarto d'ora prima del colloquio. 60 minuti per discutere l'elaborato scritto sulla materia di indirizzo, analizzare un testo letterario e rispondere alle domande multidisciplinari.